Su Tirol ha sconfitto per 3-1 dalla Venezia nel debutto casalingo in Serie A. Le ragazze di gente segnano per prime e sprecano più volte il raddoppio, ma alla fine vengono punite dalle Venete. Vediamo. Come triste Venezia, così cantava Charles Navure, così purtroppo è costretto a cantare anche il presidente del CEF, Su Tirol Luca Dallatorre, al termine del debutto casalingo in Serie A delle Biancorosse sconfitte dal Venezia per 3-1. Reduci dall'amaro esordio di Roma, dove Tonelli e soci erano uscite battute per 3-0 due settimane fa, le ragazze di Mister Gent avevano tutte le migliori intenzioni di ben figurare al cospetto del pubblico amico, a corso in buon numero con almeno 300 spettatori sulle tribune dell'Inter Normarena di Via Cadorna-Bolzano. E l'inizio infatti confermava la sete di rivalsa del CEF su Tirol, che passava in vantaggio già il quarto minuto con Rossella Cavallini, il cui pallonetto dal limite non dava scampo al portiere ospite per il primo storico gol in Serie A delle Altuatesine. Sull'entusiasmo del vantaggio il CEF proseguiva all'arembaggio, sciupando clamorosamente per due volte il raddoppio, prima con la stessa Cavallini e poi col buon Bertonelli. Gol sbagliato, gol incassato e purtroppo in questo caso i gol sono stati due. Il Venezia infatti ha colpito al 26esimo e al 28esimo con Capovilla e Chinello, riuscendo a chiudere il primo tempo in vantaggio. E ad inizio ripresa le Venete mettevano in cassaforte il risultato con l'otto già al quarto minuto. Un gol che spezzava le gambe alle padrone di casa incapaci di concretizzare la rimonte, che quindi dopo due giornate si ritrovano ancora a quota zero punti in classifica. Io sono molto tranquillo perché secondo me le ragazze hanno interpretato la partita nel modo giusto, il risultato non lo valuto reale perché abbiamo fatto molto bene, soprattutto i primi 30 minuti, potevamo essere tranquillamente sul 3-0 per noi, si possono sbagliare dei gol, li abbiamo sbagliati, ma quando giochi con una formazione Serie A navigata come il Venezia, devi pensare che i tre tiri loro possono essere tre gole. quello che è successo, ci hanno massacrati con il secondo gol, il terzo gol è venuto a 4 minuti del secondo tempo, è stato veramente pesante. Adesso il chef Suttirol farà bene ad archiviare e dimenticare in fretta questo secondo stop, poiché all'orizzonte si profila un vero tour de force, con due veri mostri sacri del calcio femminile da affrontare nelle prossime due settimane. Sabato prossimo in Friuli con il Tavagnacco e poi di nuovo in casa contro le pluriscudettate veronesi del Bardolino.